La notte del 24 agosto 2016 il terremoto gli ha portato via la casa e la farmacia. Il dottor Francesco Nigro però non si è fermato e nei mesi successivi a bordo di un camper ha percorso centinaia di chilometri al giorno per portare i farmaci e i suoi pazienti sparsi tra le tendopoli e gli alberghi della costa e dopo quattro anni si è ritrovato in prima linea in un'altra emergenza, quella del Covid-19. Ovvio che il Covid ha cambiato un po' le abitudini anche dei medici di famiglia, del posto. Quindi non si può andare a casa a far le visite, non si può andare in ambulatorio nell'ora in cui ci sono i medici per le ricette ordinarie. La farmacia è diventata quindi il punto di riferimento per qualsiasi cosa. Il medico di famiglia viene una volta a settimana e praticamente bisogna prendere appuntamento per avere una visita. Con le urgenze quindi? Con le urgenze, se uno ha un'urgenza o chiama il 118 o se no altrimenti viene in farmacia e si rivolge a Francesco. I farmacisti sono rimasti di fatto l'unico presidio fisico sul territorio e così dopo l'orario di chiusura il dottor Nigro comincia il suo giro per consegnare i farmaci a chi è isolato in casa. Andiamo ad una famiglia, devo consegnare una bombola d'ossigeno in cui c'è stato purtroppo qualche episodio di Covid-19 e allora io di solito la consegno, la lascio fuori e me ne ritorno. Poi saranno i familiari a occuparsi della bombola, a portarla a destinazione. Queste sono di Patrizia. Allora, domani te la sistemo. Va bene, ok, grazie. Sono oltre 8000 le persone che secondo la protezione civile ad oggi vivono ancora nelle soluzioni abitative d'emergenza. 8000 persone per cui il lockdown è cominciato oltre 4 anni fa. A me capita spesso che mi chiamano al telefono anche piangendo perché non hanno modo di comunicare con quelle strutture sanitarie che dovrebbero poi essere i loro riferimenti.